dopo la pozza di prima un po' l'ercello eccoci tornati sul terrano finalmente era un po' che non facevo un giro fuoristrada questo potrebbe essere l'ultimo della stagione andremo a 3000 metri avrò della gente in macchina non siamo una carovana come sempre andiamo solo con questa macchina quindi parlerò magari molto meno ma spero di fare comunque delle belle immagini io purtroppo una gopro mi posso permettere no vabbè ma stacchi quella la metti fuori e la ristacchi dentro tanto non è che uno deve andare davanti mi ricordavo quanto la prima ridotta fosse inutile puoi anche battere in seconda ricordo anche in terza bella sport ah ma questo è come un Audi che presto ero caldo bro tu un po' meno ciao loro sono a fuoco non caldi io amo salutare la gente saluta loro ma tutti quanti ciao 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 così? si così proprio così non si vede più niente dietro normale si è il nostro modo delle vacanze l'ultimo mangiava merda e polvere ma la gente ha il cervello bruciato e guarda che quasi finiamo giù andiamo giù ma ce n'è di alberi che ci fermano spererei di non finire giù oggi magari un'altra volta lo proviamo lo fai una volta che non ci sono io va bene va bene questo si è messo nell'unico punto in cui non c'era un cazzo si è messo l'unico punto nel più stretto degli altri guarda che la gente è veramente la merda nel cervello ma c'era il cervello rovinato ma troppa gente non ha la pippalletta di dove cazzo vive questo c'è la 500L convinto di avere un Renegade è la X è bellissima è bellissima sta valla mamma mia che bello no c'è il rifugio tu se vuoi mangiare c'è il rifugio a Scarpiotti e poi c'era Diga la gente viene qua a fare cose sportive a dire a minchia faccio una foto nella natura così sono un montagnino ando a mangiare un mulino da carno ciao ciao ma che bello è ragazzi ci sono dei incolori che è molto figo ma anche la la c'è proprio è bello la montagna è bellissima la montagna è bellissima che bello scusiamo di andare un po' più avanti su town ma ci ha visto arrivare a cannone grazie la mascherina è in macchina lo vedi che sei del nulla c'è la polvere c'è la polvere c'è la polvere Peppe per quel porco nel nulla non c'è anima vivente nel raggio di chilometri eh la mascherina Peppe se no ti fanno la multa porco la multa piuttosto che tenere quella merda queste cose mi mandano fuori e volete andare a fare una di quelle veste lì come si fanno per fare quelle veste lì e ci andiamo andiamo siamo lassù arriviamo lì un po' più sotto dietro la cresta più bassa di fronte a noi ma sono 96 gradi Peppe questo è un bel problema 90 lo vedi che è un bel problema non c'è Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ah... Poi si prende di tutti. Vai dritto. Di morire. Non fermarti in mezzo alla strada. Togliti o a sinistra o a destra. Non in centro, ragazzi. Non in centro. È un po' più piano. Piano un cazzo. Se non siete in mezzo alla strada posso andare a 200 all'ora. Non c'è pericolo. Mi chiama Etadio. Da qui lì. Ho filmato tutto. Hai filmato anche il porca c***a gente. Sì, sì, ma questo... Questo video forse è meglio che non basso il YouTube. Lo metterò integrale, Peppe. Pure sound della nostra salita al Sommelier. Alt 5 euro. Merdo. No, no, no. Non cadere. Ciao. Grazie. Ciao. Ma questo, secondo te, è un giorno un decisore. Sai che c'è? Adesso io metto qua e chiedo i soldi. A cazzo. Non perdiamo quello, Peppe che... Quello è il rifugio dello Scarpiotti. Quello? Quello, la casa più grossa con le ante rosse. Anche se poi por c***a siamo moriti e arriviamo su dai prati e era gratis. Sì. Vabbè. Abbiamo i soldi e chi non ha mai saputo fare niente nella vita se non privatizzare quello che gli hanno lasciato i propri avi. Ma ne ha anche, Dio, fai una strada. Guarda che fresco è che qua si mangia una verba buona di montagna. Ma siamo a 2170 metri. Adesso cominciano i tornanti dopo quello laggiù. Ma guarda che cascatozia. È bellissimo. Io sono tre. Bravo Terrano. Adesso ti incormano. Oh c***o. E poi, e qua scopri a cosa serve il paravacche. A parare le vacche, letteralmente. Non mi sembrano poi troppo spodentate dalla mia pronta. No, sono capicolata. Un c***o proprio. Ciao! Pensa se tiene rotolo una sul tetto da lassù. Giuro che vido tantissimo. Se la vedo proprio rotolare. Guarda come ti guarda. Che c***o è questo, baglioni? Ciao! Minchia guardi 1477. Minchia guardi. Minchia guardi. Minchia guardi. Cucciolotti. Quella manutenzione hanno fatto questa strada. Anche qua. Percorribile quasi con un Ferrari. Se. È quello che ti dico. Che devo pagare Dio fa per avere la strada che è una m***a sinceramente. Ma quelli quei 5 euro vanno sotto e vanno a fare aperitivo e si bevono. Se li bevono. E la sera stessa. In un'ora e mezza hanno finito tutti i soldi del giorno. Ma se li stavano già bevendo lì eh. Si. Ti pochiamano, e li comporta solo una birra che ne è salita un'altra. E anche oggi mi sono guadagnato con un'altra via No, stai lì, mucca Stai lì, mucca Vai piano, vai piano che lei lo capisce Ciao, mucca Ciao, tesoro Tesoro Aspetta, dove ci devi dire con le mucche? Hai qualche feeling particolare Devi dire qualcosa Sì, qui si gira L'hanno allargato un po' sti tornanti per fortuna In realtà lui non lo sa, ma è una smart Non lo sa, ma è un po' sti tornanti per fortuna Non lo sa, ma è un po' sti tornanti per fortuna Non lo sa, ma è un po' sti tornanti per fortuna Non lo sa, ma è un po' sti tornanti per fortuna Non lo sa, ma è un po' sti tornanti per fortuna Non lo sa, ma è un po' sti tornanti per fortuna Non lo sa, ma è un po' sti tornanti per fortuna Non lo sa, ma è un po' sti tornanti per fortuna Non lo sa, ma è un po' sti tornanti per fortuna Non lo sa, ma è un po' sti tornanti per fortuna Non lo sa, ma è un po' sti tornanti per fortuna Non lo sa, ma è un po' sti tornanti per fortuna Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quello è un fuma nero, anche se non accelera. Ma perché quello è un patrol. Il drangler comunque ha sempre il suo perché. Eh, il drangler è bello. E quello non ti piaceva? Ho anche quello nel fango. Oh, questo è stato una catapulta giusta. Non era del tutto fango, secondo me. No, era un po' merda dall'odore. Questa è stata una bella catapulta. C'ho solo più l'acqua a 66 gradi. Madonna, che puzza di merda. Mi sa che non era del tutto facile. L'acqua è a 60 gradi, mica. Ho raffreddato il motore in un tutto. E ce l'hai fucciato. Senti che sbambà di merda. Mamma, questo è merda, merda. Si vede che lì quelli che fanno camp vanno a cagare. No, no, spero non sia umano. La frizione è un po' strana. Cioè? Ha brutto odore anche la frizione. No, è proprio merda. Non è frizione. È merda che si scalda e fa ancora più bozza di merda. La frizione è un po' strana. 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 sono caldo nero quando fa tipo serie di pugni normali vedi che fa così e sbacca se quello nel wrangler non lo cagava in mezzo al cazzo continuavamo infatti ma è un idiota perchè dobbiamo fermarci dove decidono loro sai cosa mi cago in mezzo al cazzo anch'io no ma ci sono i pali tanto ah no quello con wrangler è proprio idiota la prossima volta prima di far fuori strada insalatino prima di far fuori strada non facciamo fuori strada siamo arrivati la prima volta del 2021 a 3.000 metri è la prima volta del terrano a 3.000 metri e la neve è rosa e la neve è rosa quando arriva la ventata siamo a 3.000 metri su quella che in teoria è la strada più alta d'italia la capitana sta morando non va bene non sono capace ma cazzo non va bene non è che un'altra sicuro Grazie a tutti. Grazie a tutti.